e tu voglio mangiare pesce che la famiglia cresce e perché mangiare pesce la panza cresce vieni con me, stamattina tengo gamberoni rocchi così freddi, ti ho rubato gamberoni rocchi così freddi là c'è rimasto solo con la mutante, Peppe, osserva gamberoni rossi locali, ti ho guarda che tengo pure qua, tengo un totano per guendalino, ti ho un totano per guendalino, Peppe, riprendi, guarda, guarda, stamattina presto, impazzibile preppo, Sammy, passi 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 freddi, ma passi un poch ail, vieni e tengo per tutti qua in montagna e vieni qua e c'eranoождения semprele 10 euro a chi sempre tutti vivi 10 euro a voi in Valio con me, questo ils tappano tutti ai 16 euro, i presti più tardi, vieni subito con me, i presti pazz,昌 impazzibile stamattina vieni con me, vieni con me, vieni con me, vieni con me, partimo subito al calice bello è 150 qu floatsste pescatrici 2 euro, cefali 2 euro, merluzzetti 2 euro e 99 o scombra, 1 euro e 99 salpe una prima, salpe come sono pesci locali 2 euro e 99 vieni con me, sali di qua, alle cinci grandi e bacchetti 2 euro e 99 vengono 8 euro, lupini grandi 2 euro e 50 2 euro e 50, lupini grandi 2 euro e 50 vieni con me, vieni, un po' di auto viva, 8 euro stamattina riprendi, 7 euro e 99 3 euro e 99, gamberi bianchi 2 euro e 99 prezzi pazzi stamattina, 2 euro e 99, calamari 9 euro e 99 merluzzo vivo, beppe, merluzzo per bambini, 3 euro e 99 gamberi 8 euro, 8 euro, 8 euro, ci campi grandi 10 euro e 5 euro stamattina peppe, prezzi pazzi, vieni, 6 euro e vieni, 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 riprendi peppe con il flash, con il flash, questi marmurini, 10 euro e pesci locali pesci locali, banco infinito, un po' più veloce, vieni, 4 euro spiega, vanno anzi, imparo, vanno a queste camberi russi, vanno a queste camberi russi vanno a queste camberi russi, vanno a che, 10 euro a kg, vanno a questa mattina offerta pazzi, 3 euro di scoglie, vanno a che, che spettacolo un po', vanno a queste camberi bianchi, vanno a come so vieni, 2 euro e 99 2 euro e 99 kg, vanno a spie locali per tutti, per tutte le dimensioni stiamo cittimano tutti vien 25 euro a kg, grande, vieni con me, vanno a che, stiamo cittimano vanno a giudicare 35 euro a kg stamattina, saliti qua, saliti su, saliti su, vanno a Il fuoco di Napoli, il fuoco di Napoli, guarda qua, toltono tutto il mondo, ripetendo il spettacolo romano, riprendi, guarda questi tre di scoglie, tiri, pronto Carmela? Tre di scoglie ancora più bello, guarda, tutti i colori del mare, gamberoni rossi, guarda qua, guarda qua, solo 30 euro a chi, gamberoni giganti, sale che mar, spettacolo del mare, spettacolo del mare, pezzogna locale, scorfani locale, questi spugni, vivi, San Pietro locale, dendici locali, tutta la forzione, guarda, Tutto il spettacolo del mare, c'è un cerno, che gli scadis, un banco non vedeci qua, aspettiamo a tutti, guarda, un banco non vedeci qua, aspettiamo a tutti, guarda, un banco non vedeci qua, pizzo, prezzo, spettacolare, quantità, a non ferire, aspettiamo a tutti, buon giorno a tutti, buon giorno a tutti, ti vuoi bene? Paz!